bene benvenuti alla sessione di giovanni ciao stefania ciao elena ciao ciao una bella sessione doppia ovviamente organizziamoci con prendere parola ma in ogni caso se vedete sentite qualcosa di te lo e poi vediamo abbiamo sentito i punti del simpatico giovanni una lunga vita spesa alla ricerca di risposte conto e vi aiuto a connetterti a connettervi più profondamente a giovanni da 5 a 1 5 4 3 2 1 ditemi se lo vedete sì io lo vedo lo vedo su una spiaggia ea una corona di fiori al collo davanti a un bancone con tantissimi bicchieri di colore con dentro del liquidi di colore diverso deve scegliere uno ma non sa quale scegliere stefania allora io lo vedo mentre sta facendo il pane mentre sta infornando delle pagnotte quindi adesso si si in questa età o poco prima poco prima può essere una cosa di tico e comunque questi anni sta inforando il palo il pane vedo una pala che in forma con una pala lunga tipo di acciaio e la mette e vedo in un forno però a cupola sta facendo quello non fa quello diciamo come come lavoro nella mia immagine lo fa proprio per per piacere per piacere ok vi da l'autorizzazione giovanni vediamo singolarmente la vibrazione prego chi vuole lo dico allora io vedo 235 miliardi potresti avere delle scale diverse non arrivato 2 miliardi e mezzo probabilmente è una virgola spostata percentuale di consapevolezza 167 per cento si vede 150 150 per cento rapporto tra anima e spirito 57 43 se vede 60 e 40 vite precedenti 1238 1500 1560 più o meno cervello 4,7 no 9,5 va bene questo è un bel esempio per dire che le scale possono essere differenti e il tranne fosse il cervello in effetti e stefania una scala più bassa sul cervello la vibrazione l'unica che si differenzia tra di voi senza considerare che se si sposta di due posizioni la virgola il valore di stefania uguale al valore di elena ok molto molto bene come vedete la ps di giovanni è andata via la voce come siccome vedete mi sentite io sì adesso siete la ps di giovanni come la vedete ma io la vedo allora la vedo luminosa quindi vedo la sagoma diciamo la sua sagoma fisica e poi la vedo luminosa di una luce in effetti azzurra che si estende dal corpo verso fuori e poi un contorno giallo quindi dorato io vedo come la vedo di solito no quindi è più una forma tonteggiante sul violaccio ok la vedo molto è come se aprisse tutti i suoi canali energetici all'esterno non so come dire come se invece che avere uno strato di chiusura di staticità ok la sua energia si è dinamica verso l'esterno è molto e poi va tanto la vedo che va molto molto in là come se c'è probabilmente a vedere la sua aura sarebbe molto di molti metri intorno al suo corpo e la parte teorica allora io vedo la sua sala la sagoma del suo corpo e la vedo molto come se avesse una rete intorno a una rete di particelle particelle potrebbero essere quanti non so particelle ok sembrano quasi di colore bianco perché è come se si muovessero tutti e tutte all'unisono ma c'è questo questa sagoma sua che come se contorno della sagoma si muovesse tutta all'unisono invece la vedo lui sempre lui però di un'età più piccola quindi come dunque lui intanto più basso qualche anno fa e vedo che ha una luce che viene proiettata proprio dalla fronte del centro della fronte come a cono che va verso l'esterno così come un raggio ma a forma di cono quindi la parte più più piccola verso il centro della fronte e si allarga va bene prima di vedere le interferenze vorrei fare velocemente un un ingresso come come a teatro quando si richiamano a fine spettacolo gli attori in nel palco per prendersi gli applausi senza gli applausi di tutti i personaggi e delle esperienze delle tante esperienze che giovanni ha fatto nella sua vita se il personaggio in questione il guru chissà chi sia un simbolo a ha delle interferenze vengono le interferenze se il personaggio in questione il guru in questione è pulito viene il personaggio vivo o morto che sia come parte eterica e parte subliminale facciamo entrare rudolf steiner padre pio babaji il guru indiano di cui non vorrei dire il nome e la madonna iniziamo con rudolf steiner io con rudolf steiner vedo ho visto un rapace praticamente come fosse un'aquila che entrava entrava volando quindi ma come fosse in posizione di attacco quindi vola e sta guardando giù per con le artiglie diciamo che dovesse attaccare io visto come se come se fossero uno steiner però al posto del viso ma anch'io vedo la faccia di un becco esatto sì con tutte le piume e poi e poi le ali dietro da padre pio e gain e è arrivata una mantide sì allora anch'io sto vedendo la mantide ma anche una un essere che sembra appunto un essere alato come fosse una dl sembra come viene rappresentato solitamente tipo un arcangelo anziché tra l'altro la mantide quasi nessuno lo sa ma quando è spaventata apre le ali a delle ali e nelle ali ci sono delle specie di occhi per spaventare il mini nemico perché la mantide è una robina piccola che qualunque animale schiaccia con il secondo marva molta paura spaventa molto in questo modo crea anche un rumore fa anche un emette un rumore che spaventa come insetto quindi siccome ci sono delle dei parallelismi tra l'insetto e l'entità ok madonna non la cantante the virgin mary io vedo dietro vedo un ero investito da donna però se avete una luce vedo come la sua sagoma solo la sagoma la parte intorno però all'interno è come se lo spazio proposto al corpo fosse occupato da da proprio una luce che arriva da entità quindi potrebbe essere un ero inizio babaji ma io sto vedendo un grosso felino un felino che prende una forma come di pantera nero proprio nero con gli occhi scuri gli occhi scuri anche lì in fase di di attacco io ho visto arrivare dietro al felinoide ho visto arrivare mollok direi solo solo l'informazione perché come al solito io vedo che non riesce più a entrare qua ma come se venisse proiettata l'informazione che poi guida il felinoide il guru indiano che giovanni ha conosciuto di persona che ha addirittura un'app per non so cosa meditare qualcosa del genere che creatore di un grande business è vivo no giovanni è vivo attualmente vivo quindi non è un sei baba che non c'è più non è un babaji è per tutti i curiosoni inizia con la s cosa così magari avete posso conferma allora io vedo un essere praticamente con un essere praticamente con una bocca non so definirla non ho mai visto quindi con la bocca che si apre con molti denti e con una lingua che cerca di catturare potrebbero essere quelle lingue degli insetti che cercano di catturare gli insetti ecco tipo non so se sono camaleone i camaleonte erane sì però questa lingua è attorcigliata quindi come un cavatappi diciamo così e ai denti molto molto gozzi sì io ho visto allora lui però è come se avesse davanti una maschera certo quindi tutto il suo corpo dalla testa fino in fondo era una maschera doveva tipo uno scudo dove l'entità si si è messa dietro e io avevo visto un serpente così quindi cosa può essere quello che ha visto stefania ok avete visto la stessa cosa quindi qualche modo un rettino rettiliano mentre giovanni fa dei grandi si con la testa e dei grandi pollici in su perché evidentemente fosse il simbolo di questo personaggio va bene io non mi perderei in state chiacchiere mi interessa solo l'esperienza di meggiugori andiamo lì a vedere se va tutto bene se giovanni torna a casa con qualcosa di arricchente con cosa in meno o con niente in meno niente in più ma io guardo il posto dall'alto proprio come posto vedo come se ci fossero tante lucine quindi ci sono i fedeli e tante lucine pronte ad attaccarsi ai fedeli e quindi andare ognuno rispettivamente nella nella vita del fedele diciamo così quindi ogni lucina viene portata nella casa o nella vita di il quadro generale del posto adesso io ho visto lui vedo lui lì amici quello vedo in questa vasca con i piedi posseduto sul bordo con i piedi questa vasca e vedo che l'entità che è la stessa della madonna che come se gli prendesse la sua energia e la shaker a se la mischiasse tutta per come se la confondesse no come se volesse confonderla per giovanni e dopo che la confusa come se creasse un canale energetico dato alle vibrazioni di questa interferenza va bene allora le esperienze di giovanni sono tante ci sono due tipi di persone che ci contattano con tante esperienze all'attivo coloro che fanno quello che si usa oggi no quindi seduto direi che queste lezioni familiari anche sedute spiritiche che non mancano nemmeno giovanni e poi ci sono quelli che si dedicano alla parte orientale no e non solo comunque gli studi steiner niente india il punto è vi serve tutto questo siete sicuri perché giovanni ha tanta roba dentro e non sa bene come indirizzarla io ho questa sensazione correggetemi se sbaglio vediamo no tanta roba tante capacità vediamo le interferenze così secche divise tra eteriche e mentali se ci sono se ci sono se ci sono eteriche io vedo che c'è l'amantide e falconiforme si si vede anch'io un amanti del falconiforme e vedo anche che come fosse un po più in secondo piano come non fosse un po nascosta al felino e te basta se si e dl io ne vedo 5 due dentro e tre fuori sì io vedo che è stato sono stati tanto e tanto presenti nella sua vita come se quei tre lì fossero più di passaggio però lui riuscisse bene diciamo schermarsi ecco facesse spesso un lavoro di scherma schermatura ok armatura entità mentali ma io ne vedo una di livello 3 se ne vedo anche una che anche ogni tanto tende al 4 preposta quale compito stefania ma quello che vedo io è che è come non come se fosse adibita a alla ricerca quindi a dover sempre spingersi un passo in là nel cercare quindi cose fa esperienza di una cosa non si sente completo e deve proseguire proseguire nella ricerca quindi diciamo che l'ha sempre spinto a dover doversi spingere un po oltre ma sia nella ricerca personale che anche nelle esperienze sì io vedo che gli crea come se non ci fosse chiarezza no quindi crea un po di confusione un po tutto assieme no quindi probabilmente cercare anche di mettere in ordine le cose cioè quindi le crea confusione e quindi lui per cercare di fare ordine in questa confusione continua a ricercare e andare oltre le sedute spiritiche cosa hanno condotto nella vita di giovanni una una sola ne ha fatto non c'è che rispondato allora io vedo che l'entrata l'entità di mollok tramite padre pio io vedo anche che uno dei due dl è arrivato attraverso quell'esperienza va bene abbiamo il cinema chiamiamo le tre mogli tutti i figli tutti quelli che lo conoscono e che vogliono venire nel cinema il figlio che lo segue soprattutto ma tutti i figli in generale nelle tre mogli l'attuale le due il passato ma questa è la sessione di giovanni quindi non ci soffermiamo su dettaglio che soltanto chi è più interessato interessata un particolare attenzione ai figli e la moglie attuale insomma io li vedo in prima fila sia la moglie attuale che i tre figli e poi vedo le altre due moglie in fondo l'ultima fila e mezzo vedo tantissimi suoi clienti del suo negozio allora vedo anch'io la moglie io la vedo centrale però comunque molto interessata vedo i figli una la figlia e gli altri due figli e poi vedo anche suo fratello mezzo suo fratello quello con dei problemi diciamo non è non è davanti in fila con gli altri e la moglie e dei figli e lo vedo come fosse in seconda fila sul lato destro però lì che sta sta guardando molto bene chiamiamo invece disincarnati i due genitori e la zia sì ci sono tutte e tre interessati sì sì ti vedo molto affaticati come se avessero ancora la sofferenza che hanno partito prima della morte vedo metterà la zia che molto contenta di vederlo la mamma la zia ma tutte e tre sono contenti di vederlo ma la zia la vedo particolarmente unita diciamo particolarmente contenta e la mamma anche io le vedo ancora un po provata il papà lo vedo stupito non fosse contento ma stupito di essere di di vederlo ecco stupito di essere lì ecco sì ok vogliono lasciare un messaggio ma giovanni la mamma vuole adesso mi rendo conto di quanto tempo tu abbia speso nei miei confronti adesso vedo chiaramente che potevi fare altro per te quindi diciamo che se contenta di vederlo libero stefania e anche io sento la mamma come più sollevata consapevole il papà invece ci tiene a questo che ha capito solo negli ultimi anni l'importanza di di avere un figlio come dire che lui è dispiaciuto di questo come se si scusasse proprio dispiaciuto del fatto di di non avere di non essere stato in grado capace di prendersene cura perché era sempre costantemente preso dai suoi problemi come se vivesse in una grande nuvola in una grande nuvola grigia questa è l'immagine che mi rimanda e non fosse riuscito mai a vedere oltre a questa nuvola grigia quindi quando lui l'ha contattato è come se l'avesse tirato fuori da questa nuvola e le avesse permesso di di uscirne anche lui ok chiediamo a giovanni che perfettamente in grado secondo me di aprire il portale aureo di chiamare tutti i suoi parenti al di là dei genitori e della zia di tutte le generazioni quindi anche quelli che di cui ignora l'esistenza di chiamare tutte le vittime di cinevac da ieri a oggi nel mondo di usarla finalmente questa energia il tempo dell'analisi è finito lui a questa energia come tutti ma lui in dercela in maniera particolarmente forte ogni volta che apriamo un portale aureo una festa è una bellezza una magnificenza è un passaggio diretto da tutti i casini di questo gioco a una zona di energia neutra a un risettaggio con una formattazione di ps e pie che fanno tesoro di tutte le esperienze fatte ma che si liberano di tutti tutte le aggiunte interferenze contratti credenze sistemi di credenze karma religione cazzi e mazzi a youtube ho detto cazzi chi arriva ma gli antenati ne arrivano un po di vede un po un po da tutte e due le parti sia tra parte della nuova che del papà sono 87 ne vedo una novantina ma sto vedendo anche tipo degli amici dei genitori cioè non sono solo sui parenti ma vedo anche e vedo anche degli amici suoi persone che lo conoscono che sono passati sono già passate e poi c'è una cosa che la zia voleva dire già dapprima che prima di passare vorrebbe dire che lo ringrazia perché degli ultimi periodi della sua vita ha apprezzato un gesto che lui ha fatto io vedo che lei è come se come se lui l'accarezzasse come se lui l'accarezzasse quindi ha apprezzato e e l'ha considerato come un figlio dice questo prima di passare e poi vedo anch'io si degli amici dei parenti degli antenati anche degli amici si si sono più c'è sono poche generazioni ma più più gente per ogni generazione ecco ok li facciamo andare tutti quindi i vit le vittime del cinevac quante sono da ieri oggi 3 3.215 mi è arrivato via tutti li salutiamo particolar modo la zia la mamma e il papà di giovanni fatta sì 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 bene proseguiamo ci sono impianti ci sono dei problemi fisici di cui giovanni non ci ha parlato né a me né prima e che lui voleva riservare a una seconda sessione ma io ritengo che non ce ne sia bisogno facciamo tutto oggi quindi vediamo questi impianti e se eventualmente quindi i suoi problemi fisici sono noi ignoti non ne sappiamo assolutamente se ci sono delle conseguenze un impianto alla schiena da cui il mal di schiena un impianto allo stomaco da cui il reflusso no così insomma quindi se avete la capacità di vedere non solo l'impianto ma anche eventualmente è il disturbo in questione almeno a grandi linee chi vuole iniziare inizia forse stefania vice ma io sto vedendo un impianto che è posizionato facciamo conto dalle prime prime vertebre dietro la nuca e che scende di qualche vertebra per cui alla parte iniziale insomma finale a seconda di come si vede del del collo e posizionatori vedo che questo riporta gli ha portato più che altro negli anni passati un po uno squilibrio un fastidio a livello di schiena ma anche di camminata adesso come se si fosse un passo è stato diciamo che ci convive però parte da di questo questa cosa qua ci vuole ok io ho visto sul polso destro auto c'è stata una frattura e poi ma molti anni fa penso siete pazzesca comunque sta dicendo tutti sì sì sia stefania si rileva ma la pazzesca non è rotto verso destro non sappiamo moltissimi anni fa e che gli dà ancora fastidio però poi non si è mai sistemato completamente e da problemi di cervicale alta schiena insomma di poi vedo metto qualcosa a livello che le dà un problema come fosse alla gamba sinistra l'articolazione ma vedo che parte praticamente da dell'anca all'altità delle anche se si è visto anch'io due impiame da due impianti anche a destra lo vedo e poi qualcosa sulla vescica c'è una parte alta della vescica vedo che è un po infiammato ci deve essere stato un impianto però non lo vedo più ma è stato per tanti anni e quindi gli è rimasta un po con la parte sensibile quindi ogni tanto come si fa si infiamma la vescica e fa un po fatica ad urinare non brucia un po se vedo che ha un effetto anche sulla sulla prostata questa parte cioè che come se avesse come effetto anche di infiammarla se poi faccio qualcosa più o meno a metà dello sterno però è più muscolare tipo muscoli intercostali ecco per l'attaccatura con lo sterno questa cartilagine qua che gli dà a volte fastidio quindi magari sembra quasi che gli manca il respiro come se si dovesse trattenerlo e quindi a volte fa fatica a fare dei respiri profondi sì ma e adesso mentre parlavi di questa parte dei respiri io vedo che c'è qualche cosa che lo disturba a livello di cuore che li provoca ogni tanto come della tachicardia comunque ecco forse più giusto aritmia ogni tanto ha un'accelerazione o o viceversa non so come si chiama il bra di bradismo di radicardia radicardia calento quindi ogni tanto un'alternanza poi vedo che ha due impianti sulle caviglie sia destra che sinistra perché perché sono state fatte delle ad action quella solita cosa che vedo ogni tanto come se cambiassero i piedi come si mettessero delle durante l'app action è come se collega staccassero il piede nel senso lo scollegassero e collegassero un rivestimento del piede di metallo tutti i piedi sì la parte che sta descrivendo io la vedevo praticamente sotto praticamente sotto i palmi dei piedi come le descritte in effetti c'è anche la parte collegata per cui li vedevo più sotto ma è tutto collegato in effetti ok questi impianti sono stati messi da queste entità eteriche durante le abduction o la nascita contratti eccetera perfetto va bene merca bambi io lo vedevo già prima quando la descriveva potrebbe essere più che allora quando potrebbe essere in generale che potrebbe essere un buon esercizio per imparare ad alzare vibrazioni a livelli altissimi in generale lui è capace ad alzarle anche senza utilizzare la merca va quindi diciamo che da quel punto di vista lì per lui è superflua però si fermerebbe solo ad alzare le vibrazioni questa merca va se uno fosse centratissimo e fosse in grado di lasciarti riuscire a lasciar fuori tutte le interferenze perché talmente tanto il canale che si genera talmente aperto che se uno non è riesce a tenere vibrazioni altissime e non è esperto diciamo lavorare sulle scuole sue vibrazioni fa sì che entrino interferenze e in generale vedo che per alcune persone entrano interferenze anche abbastanza più forti stesso discorso pentasfera stefania chiunque si vede anch'io se ho sentito un po scatti ho sentito stesso discorso per pentasfera poi non ho più sentito basto quello basta solo solo quello sto sentendo un po scatti ok ok stesso discorso vedo vedo che quando lui diciamo alza le vibrazioni senza essersi schermato in effetti la vibrazione alta viene percepita dalle interferenze e che si avvicinano perché percepiscono possibile cibo per cui lo stesso i ching la piramide la storia sempre quella io non mi perderei allora giovanni ha fatto tante esperienze negli oggetti nelle persone nelle credenze c'è la fiamma di giovanni ma io la vedo la vedo in questa donna che questa questa la moglie che adesso come la tigre che graffia la tigre se questa donna che ha che è stato in grado di conquistarlo sono d'accordo con stefania l'avevo già visto aveva già visto un po l'informazione prima quando quando ce la descriveva la fiamma e non è poca roba infatti è molto commosso adesso giovanni dove si sono già incontrati hanno fatto una vita ed è in giappone assieme vedo vestiti tipici vestiti giapponesi quindi direi almeno il secolo scorso una vita io ne vedo anche una ma sempre indice ma i naviti orientali ne vedo anche uno in un villaggio che potrebbe essere anche cinese perché vedo questi cappelli di pallia rotondi in un villaggio vicino delle risaie però li vedo le vedo le tratti orientali vietnam cina laos i paesi sono tanti poi in passato non c'erano neanche i confini di oggi anzi li sono cambiati parecchio quindi diciamo oriente occhi a mandorla un appello di paglia risaia anche lui con gli occhi mandorla se anche lui anche lui io vedo se giapponesi anche lui sì sì molto bene molto bello potremmo anche chiuderla qui ma ci sono alcune con ci sono alcune curiosità alcune cause esoteriche caso esoterica del rapporto con la pornografia passiamo passiamo di da cose più terra terra da bambino trova a sette anni otto anni trova in un posto dove andava a giocare dei giornalini che queste immagini senza capirle gli entrano dentro in qualche modo e si ripropongono poi con interessi magari anche eccessivi morbosi in età adulta si vado io vedo allora quando lui ha trovato i giornalini erano stati diciamo lì consumatili nei pressi in zona delle pratiche sessuali questo ha fatto sì che i giornalini si impregnassero di questa energia diciamo sessuale che è rimasta lì è rimasta lì però come se ci fosse l'intento durante queste pratiche sessuali di lasciare un'impronta su sulla zona sul terreno per cui non solo lui ma anche chi ha attraversato la zona è come se avesse assorbito una parte di di questo di questo marchio di questo timbro vedo questa cosa qua questa cosa curiosa quindi lui è come se li fosse rimasto un una cosa che può sembrare anche un impianto nel senso tanto è rimasto fisso non è stata solo energia con cui è venuto a contatto ma proprio una cosa che si è insediata all'interno dove si viene da dire questo dove stefani dove come come posto sì come posto fisico ma io lo rilevo più in una parte mentale come fosse in una zona diciamo del cervello una zona del cervello un'area del cervello che che si attiva anche solo quando si attivava anche solo quando qualcosa gli ricordava l'azione una parte del corpo che vedeva come se si attivasse un'area in oriente gli è capitato di un'avventura diciamo con dei fanboy mi sembra che si chiamino dei lady boy lady boy di lady boy causa esoterica se magari è legata a questa parte mentale che si è inserita in giovanissima sette anni sì 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 secondo me sì io vedevo esattamente quello che ha descritto stefania lo vedevo già prima quando ci descriveva questa cosa di quel luogo lì e anche che poi si attiva ogni volta che c'è un'energia che vibra uguale a quell'episodio di quindi un'immagine che ripete quella vibrazione lì oppure un suono che ripete con la vibrazione di un odore comunque tutto ciò che vibra come quell'episodio di lady boy richiamavano benissimo questa queste vibrazioni questo e ci vedo collegato proprio come diceva elena cima ci vedo collegato anche la parte della mentale che dicevamo prima del 4 che tende al 5 dello spingersi oltre del provare quindi diciamo raggiunto un livello sono salito di uno scalino per dire ha fatto un'esperienza no però non riesco a stare fermo qua devo superarlo per cui come aggancio anche al mettersi alla prova a spingersi spingersi oltre ok ci sono tanti sogni lucidi ne vedete uno in particolare ne ha descritto uno solo vedete una causa esoterica questi sogni lucidi un contesto un racconto un senso io vedevo già prima mentre descriveva che era per quello che la di quello che ha descritto era un tentativo di abduction che la sua pss ha visto e quindi ha bloccato all'istante ma anche gli altri anche se non li ha descritti vedo che sono di solito episodi di tentativi di abduction a volte però le abduction avvengono e lui si ricorda dei particolari dove la psa un po interferisce ha cercato di bloccare comunque non vedo che riescono mai a portare a termine l'adduction con il programma che si erano prefissati non va mai tutto liscio esatto problema questo soggetto o si ricorda o blocca o blocca in parte o mette la cenergia ok si stefania non volevo dire che li capita gli è capitato di questi tentativi di adduction in particolare quando lui ha aumentato le vibrazioni no perché in quel caso lì è più è più appetibile per cui da una parte più appetibile viene visto di più e quindi può essere utilizzato meglio ma dall'altro alzare le vibrazioni gli ha permesso anche di bloccare la cattura diciamo così ok andiamo velocemente l'episodio dello squalo della nuotata e credo che sia un altro episodio quando incontra uno squalo e lo uccide giusto lo fioccina riesce a raggiungere uno stato dove la ps crea proprio all'istante coscientemente dove non c'è più spazio né tempo e quindi tutto va verso quello che è meglio per lui anche l'episodio dove ha detto che voleva provare la morte la ps ha fatto in modo che lui la provasse senza morire quindi aveva già creato anche il fatto che suo parente mi sembra abbia preso abbia preso poco prima che potesse veramente morire sì sì vedo anch'io che il discorso della ps che proprio decide crea decide crea sì e lo be le robe l'esperienza anche lì quello faceva parte del programma dell'episodio proprio come se la ps prima di iniziare l'esperienza sistemi tutto intorno in maniera tale che l'esperienza vada esattamente come l'era prevista è come se la ps per per fare esperienza e arrivare a termine dell'esperienza e acquisire la consapevolezza e l'informazione di quell'esperienza aspetta perso il filo dire una cosa ma che è sfuggita sì o beh esce esce perché lei aveva previsto tutto no quindi la ps deve fare una certa esperienza per acquisire la consapevolezza e l'informazione ok però se non sei consapevolezza se non sei in grado e consapevole al tal punto da far sì che tu sei in completo contatto con la tua ps inizi l'esperienza ma magari non sei collegato e quindi la fine esatto ti perdi e sfugge di mano tra virgolette la ps quindi magari muori veramente nel suo caso invece la ps è in grado di preparare tutto anche all'esterno quindi tutte le persone le situazioni e tutto per far sì che vada esattamente come lei vuole che vada per far sì che lui faccia l'esperienza e in quel breve tempo acquisisca tutte le informazioni e la consapevolezza rispetto a l'esperienza lì c'è un anello è come se ci fosse un anello lui deve questo si può applicare all'obe all'esperienza di morte con andando con le bombole a 70 metri sotto sotto livello dell'acqua così come tutte le esperienze che ha fatto tutti i guru chiamiamoli così con la madonna che anche un guru facciamo finta tutti gli oggetti mercaba piramide e rai ching tutte le semi esperienze sedute spiritiche e studi di rudolf steiner andare a medjugorje a fare il pellegrinaggio padre pio che di merda ho dovuto dire perché non lo posso non dire c'è un anello di ring c'è un anello lui riesce a gestirlo e la cosa più semplice da capire quando ha provato la morte che voleva provarla la stava provando gli stava piacendo e poi si è scocciato che il fratello un parente l'ha salvato ma in realtà la ps la vera esatto in realtà lui inizia l'anello e poi torna e finisce la domanda adesso è e gliela facciamo mentre ci dirigiamo con lui seguendolo perché lui ce la fa assolutamente da solo a cluster qual è il prossimo step e adesso cosa io direi riprendere sicuramente l'allenamento della telecini perché veniva così facile da bambino che quello come allenamento per aumentare la capacità cerebrale già che lo sa fare direi che è da attivare perché almeno poi il cervello parte sempre da un certo livello da bambino a sette anni lui muove il lampadario e si ricorda di aver piegato un cucchiaio richiamatela e stefania richiamala questa esperienza descrivimi una delle due il lampadario cucchiaio e vediamo come tecnicamente riesce a ottenere questo risultato allora l'ho visto con l'immagine della piegno di questo cono di luce che praticamente vortica e si proietta verso fuori allora lui è scusate allora lui è ti dico l'immagine che vedo è in cucina vedo un lampadario che può essere bianco bianco sopra e vedo che lui guarda verso il lampadario anzi prima di guardare verso lampadario vedo che sta respirando vedo che il respiro lo porta a concentrarsi e quindi come se fosse un accumulatore di energia ecco come se in quel modo attraverso respiro che una parte che forse a quello non ha dato molta importanza ma sta respirando e vedo che invece di far uscire l'aria dal naso lui è commesse quest'area si trasformasse in energia si proietta dalla fronte quindi e lo crea attraverso questa energia che viene proiettata dalla fronte e questa energia dalla spinta al lampadario anzi lui pensa che lampadario si deve muovere perché non è di fatto proprio che l'energia muova lampadario ma l'intento che c'è all'interno dell'energia quindi la programmazione di questa energia che spinge questo lampadario per cui è come se lui l'avesse deciso all'interno della diciamo della sua mente e lo fa attraverso questa energia cercando di dire pezzi e quindi non è che lo sposto attraverso l'energia ma nell'energia c'è il messaggio di cosa deve fare il lampadario sì 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 parte la mente parte dalla decisione della sua mente io vedo come se la sua mente vedesse il lampadario donate in un'altra posizione e quindi lampadaria l'informazione che deve essere in un'altra posizione ok lui decide e utilizza secondo quello che dice stefania come dire l'energia che è ovunque l'energia partendo dalla sua fronte terzo occhio vento chiamano come vuoi di muovere il lampadario cioè l'energia l'aria che poi energia intorno al lampadario si muove più in basso che in alto in modo che il lampadario uscille ho tradotto bene il vostro vedere allora guarda ti dico che col cucchiaio forse mi è più semplice spiegare allora è come se lui pensasse a un codice lo fa in modo naturale cioè non non ha dovuto capire le stringhe diciamo così il codice del cucchiaio messo dritto e 1 per dire e 10 a livello scusate a livello numerico ma anche a livello di vibrazione e lui invece il codice del cucchiaio storto e fosse 15 e come se lui modificasse i codici e come se lui avesse in quel momento scoperto capito qual era il codice del lampadario che si spostava in posizioni diverse e qual era il codice del cucchiaio storto del cucchiaio dritto come se lui avesse decodificato che il cucchiaio dritto fosse vibrazione 10 quindi codice di vibrazione 10 e invece quello storto e quindi ha dato l'intento di un codice diverso al campo la sospite gara così molto molto interessante quindi quasi una semplificazione no ok di muovere l'energia intorno però uno mentre discorso del codice che poi un codice anche inventato perché magari lui ha scoperto che 10 15 cucchiaio dritto cucchiaio storto però che posso anche dire e 10 e 15 lo decido io devo arrivare al 15 si arriva al 12 si piega per un pezzo potrebbe anche essere che si sente bene anello sposiamoci giovanni si sposa con se stesso va al cluster l'unico finto contratto che deve elaborare a eliminare tutti i contratti io credo delle delle ghirlande dei fiori così con la scena una scena così tanti ghirlande dei fiori ogni ghirlande come fosse come se contenesse un contratto e sono lì che pensano davanti anche una bella scena bella colorata se io non ho visto cento mio ecco anche io l'ho sentito adesso non più affatti io non ho visto le ghirlande ma ho visto i singoli fiori sì ma questi sono i contratti se 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 lui vuole ovviamente se lui lo fa sì sì lo sta facendo e sta ne sta raccogliendo sfilando comunque lista sta togliendo tale e poi vanno passando via tutto ottimo ha tolto tutto creiamo un si crei una d'eternum perché sorridi elena tenente ieri sera la stessa si crei una d'eternum e se lo metta che vedrete domani e se lo metta lì dove ci sono i contratti e poi questo il vero fosse contratto quasi un sigillo no è quasi un lucchetto quasi un sì ma lo può simboleggiare come anello ma d'eternum a forma di anello invece di sfera un anello di alte frequenze si lo fa si vedete la frequenza di questo ad eternum ad anello ed un otto con 413 0 413 0 non è possibile dirlo questo numero no 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 413 proprio impossibile già 15 20 0 è un po complesso ma ci arriviamo perché 9 sono 9 9 un miliardo altri no altri 9 18 sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi poi ciao poi 18 400 e passa 313 0 è tanto avatar allora io la vedo in stile hawaiano oggi è così la vedo che con una gonnellina sempre a tema così ma lo vedo in piedi come se si volesse camuffare ci prova cosa fa ma per il portale definitivo sono sempre un po ridicoli questi avat ci provano se poverini e poi che fanno che fa sta spazzando di ma è sette all'unisono bene un altro anellone qua con un 8 e in 400 0 416 e dici che se sono mi fa 8 si è fatto ottimo c'è ancora l'amantide il falco le abduction impianti l'entità mentale 3-4 no niente non c'è niente ok quattro anelli nuovi uno nel corpo fisico uno nel corpo emozionale uno nel corpo mentale uno nel corpo subliminale ed eterico e chiediamo giovanni se vuole andare nel cinema a trovare tutti quelli che si sono presentati e se si vuole in questa nuova sua veste immagino di alta frequenza avvicinare alla sua fiamma lo sta facendo cosa vedete io vedo che quando detto si avvicina alla fiamma vedo come proprio una fiamma unica ci vedo come se si fossero uniti a formare una fiamma unica e la vedo rossa un rosso brillante e anche con i figli attorno cioè li vedo la salita che fa da cerchi in cerchi intorno tipo matrimonio se nel senso bello del termine diciamo non ci sono contratti ci sono atti sì vedete si è avvicinato anche il fratello per cosa si sono presi per mano questi del cio si ha fatto un cerchio intorno a loro si molto molto bene è molto bello nuova frequenza con le vostre scala quindi che ne era due e mezzo unita unita alla fiamma e 800 miliardi stefania si vede lui 350 miliardi consapevolezza 316 se non vedo 300 per cento 300 per cento psp 52 la ps un pochino più alto la vista 64 vite precedenti ne vede molte di meno ne vedo 1500 la vista e 628 cervello 10,8 e 1 10,5 se giovanni recuperasse con degli esercizi le capacità telecinetiche si quali livelli di cervello raggiungerebbe 18 anche il 16 per cento ok messaggio finale della ps di giovanni che poi anche la ps della compagna a giovanni se vogliamo con incursioni anche nella vita della compagna della compagna e pulita come giovanni se giovanni no perché sono due e diverse però a livello animico sempre una cosa grande interferenza delle cose molto lievi blande messaggio finale chi vuole iniziare inizia mai elena se noi stiamo qua tutto quello che la prima immagine che mi viene proprio legata a loro due assieme quindi e vedo che come se li vedo che agiscono sulla loro casa ok agendo sulla loro casa è come se l'energia della casa e la loro insieme si espandesse a livelli fortissimi e quindi questo aiuterebbe entrambi ad aumentare la la loro comunicazione con la loro ps molto più diretta e sempre più spesso ok quindi capacità di mantenere fuori le interferenze e aiuterebbe molto anche a aumentare l'uso del cervello molto più velocemente agire sulla casa intendo magari anche fare cioè fare proprio le cose anche vedo un giardino non so se ce l'hanno ma vedo fare magari le cose in giardino assieme preparare magari il pane assieme fare dolci assieme comprare delle cose c'è proprio questa cosa qua no prendersi cura di tutto ciò che la casa assieme anche sul lavoro no quelle cose che lui produce sì 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 quelle cose buonissime che riproduce possiamo anche dirlo tanto io vedo come messaggio della ps che le dice che ora possono essere una famiglia perché vedo che prima in qualche modo come se la moglie e i figli fossero due cose se non separate quasi come se lui inconsapevolmente li avesse tenuti divisi cioè almeno non li avesse permesso completamente di avvicinarsi ecco e adesso che possono essere una famiglia e possono condividere possono fare delle cose insieme tutti e quattro insieme insomma tutti e cinque insieme che non ha più bisogno di dividere i vari aspetti della sua vita come fossero compartimenti stagni ma semplicemente di unire di unire e che può finalmente stare tenea proprio agio lì dove e come immagine finale lo vedo sulla sulla corona di fiori che aveva al collo all'inizio come se fosse un tappeto volante no però una corona e lui è seduto sulla corona di fiori con le gambe incrociate che vola io la vedo vicino alla moglie anche vedo questi fiori e che lo accompagnano che li accompagnano come fossero li circondassero e vedo anche dei fiori nei capelli di lei dei capelli scuri lunghi così dei capelli anche intorno dei fiori anche intorno ai capelli di lei si beh anche giovanni ha dei bei capelli ha abbiato lui via me ne un po attaccato alle orecchie dove l'attacco l'extension scusa alla barba che poi va su bene dopo questo abbiamo rotto tutta la magia bellissima delle fiamme visto quello che abbiamo detto in cinque secondi io abbiamo finito direi non ci siamo dimenticati nulla nel cinema che fanno come passare in testa vic ad eternum ed è l'eterna frequenza sono informazioni a disposizione di tutti quelli nel cinema c'è una stanzina che abbiamo chiamato museo palestra dobbiamo ancora definirla dove ci sono le tre tecche con le tre informazioni acquisibili e poi ognuno se le ha crea per sé quindi pericolo interferenza 01 acquisisce le informazioni non gli piacciono se va l'informazione in cui si parla di frequenza ed aumento della frequenza non di credere al guru di fare segni con le mani di dare donazioni di dire mantra di fare pellegrinaggi di 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 preghiere home e robe varie informazioni sì le prendono sì 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 ok pronte a tornare si sconette te vi da tutto e tutti e noi torniamo